al grande fratello succede sempre qualcosa che scombina le carte in tavola stavolta al centro dell'attenzione sono finiti julia e giglio sembravano unitissimi e prossimi a ufficializzare la loro relazione invece pare che tutto stia per finire e nel peggiore dei modi julia e giglio sono di certo tra i concorrenti del gf che più hanno attirato l'attenzione e la curiosità del pubblico a casa dopo shayla lorenzo e tavier la loro liaison sembrava pronta a una svolta decisiva con una possibile ufficializzazione davanti a tutti gli altri coinquilini e invece è successo l'imprevedibile in realtà bisogna dire che la storia tra julia e giglio non è mai decollata veramente troppe indecisioni fin dall'inizio troppi problemi più o meno reali che hanno impedito ai due di godersi appieno i loro sentimenti e una recente confessione di julia ha forse posto fine per sempre alla nascente storia d'amore ecco cosa è successo julia asfalta giglio con una frase che pesa come un macigno di recente la bella julia ha espresso parole di sconforto nei confronti di giglio che per la maggior parte del tempo si è mostrato incerto sul comportamento da adottare con lei una situazione che alla lunga sembra pesare molto a julia se al posto suo ci fosse stato lorenzo miciero già baciata ha detto la gieffina di certo lorenzo al contrario di giglio si è mostrato molto più deciso a conquistare il cuore di shayla una sicurezza e spavalderia che evidentemente julia vorrebbe riscontrare anche in giglio i due hanno trascorso la scorsa notte insieme e sono sembrati molto vicini eppure qualcosa si è spezzato e a intuire il cambiamento sarebbe stato lo stesso giglio che nel confessionale di oggi ha espresso i suoi timori a riguardo la possibilità che julia si stia progressivamente allontanando da lui pare angosciarlo molto nonostante la ragazza lo abbia rincorato che ciò non sta avvenendo nel frattempo simone l'ex di julia le ha chiesto di avere il coraggio di porre fine alla loro relazione una volta per tutte ma lei sembra titubante sarà anche a causa dell'indecisione sempre maggiore con cui sta affrontando il flirt con giglio per ora le cose sono in una situazione di stallo ma non è detto che all'ultimo momento possa cambiare tutto d'altronde il gf ci ha abituato a questi colpi di scena improvvisi non resta dunque che aspettare e vedere cosa accadrà